Dieci meno dieci, dieci minuti prima dell'orario previsto diciamo. Stavo sulla piattaforma cliccando fino a che non aderiva. Come mai hai deciso di aderire all'open day? Diciamo perché ho visto che Johnson è una dose sola, volevo togliere il pensiero. Problemi, timori anche sul fatto sulla scelta del vaccino? Sì, problemi, timori più che altro sì perché non so i vari sintomi, però una volta fatto, spero, tutto bene. Andranno avanti fino a mezzanotte nei centri vaccinali di Grotta, Avellino, Montoro e Mugnano le somministrazioni di Johnson & Johnson alle 1920 persone che sono riuscite a prenotarsi sulla piattaforma Soresa. Un open day promosso dall'Asra di Avellino che ha fatto registrare il tutto esaurito in pochissimi minuti. A prenotarsi spinti soprattutto dal fatto che il siero scelto per oggi è l'unico monodose disponibile soprattutto i giovani. Con l'open day odierno l'Asra di Avellino replica dunque il successo della settimana scorsa quando nella doppia seduta aperta sabato e domenica con Pfizer e AstraZeneca erano stati fatti oltre 7.000 vaccini. Nel dettaglio oggi saranno somministrate 960 dosi ad Avellino, 320 invece a Grotta Minarda, Montoro e Mugnano. E nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi la situazione delle farmacie e anche in questo caso sarà somministrato Johnson & Johnson che oltre ad essere monodose ha un altro vantaggio in quanto non necessita della catena dell'ultrafreddo. La platea dei destinatari che potrà prenotare e fare l'iniezione in farmacia è quella dei cittadini dai 18 ai 60 anni. Sono 106 le farmacie della provincia di Avellino che hanno aderito all'iniziativa e che attendono solo il via libera della regione. Per quanto riguarda invece la campagna anti-covid rivolta ai maturandirpini, sono 2.533 quelli che hanno fatto l'inoculazione su oltre 4.500 aventi diritto. Quindi solo il 55% dei giovani che faranno l'esame di Stato la settimana prossima sono stati immunizzati. Nella giornata di ieri 9 giugno invece sono state somministrate presso i centri vaccinali dell'Asl 3.900 dosi di vaccino. Ancora 546 ad Avellino, 121 a Mirabella, 161 a Sant'Angelo, 152 al Centrovita di Ariano, 109 invece al Palazzetto dello Sport, poi 122 a Vallata, 234 a Grotta Minarda, 222 invece quelle inoculate presso il drive-thru, 76 a domicilio e infine 89 presso le aziende.